Cari spettatori, vi invitiamo calorosamente a unirvi alla nostra community. Cliccate sul tasto di iscrizione e attivate le notifiche per non perdere le ultime notizie. Un like è sempre apprezzato, grazie. Oggi ci troviamo di fronte a un mistero che ha scosso la tranquilla vita di Rimini. La vicenda ruota attorno alla tragica scomparsa di Pierina Paganelli, una donna di 78 anni la cui esistenza è stata spezzata in circostanze oscure. Finora, le indagini hanno portato alla luce solo frammenti di ciò che potrebbe essere accaduto, senza delineare un quadro chiaro di un responsabile. Gli investigatori sono costantemente al lavoro, scandagliando ogni possibile pista, ma nessuno è ancora stato formalmente accusato. Molti dei soggetti interrogati avevano stretti legami, persino familiari, con la signora Paganelli. Eppure, nonostante le connessioni, gli alibi stanno reggendo al vaglio degli inquirenti. La città di Rimini è avvolta in un velo di sgomento per la perdita di Pierina, trovata senza vita nel suo garage sulla via del Ciclamino. Un dettaglio intrigante è emerso nelle ultime ore, catalizzando l'attenzione degli investigatori. Manuela Bianchi, moglie del figlio di Pierina e sua vicina di casa, è ora al centro delle indagini. La polizia sta esaminando con scrupolo le sue dichiarazioni, alla ricerca di incongruenze o di quel tassello mancante che potrebbe collegare i vari fili di questa complessa trama. Pierina Paganelli, secondo quanto riportato da fonti locali come Il resto del Carlino e Il Corriere della Romagna, ha subito un attacco fatale alla vigilia di un evento di rilievo per la sua comunità religiosa. Tutti i membri della sua famiglia, appartenenti ai testimoni di Geova, erano attesi a una riunione cruciale del Consiglio dei Testimoni di Geova di Miramare. Durante questa assemblea si sarebbe dovuta discutere una questione di grande importanza riguardante proprio Manuela. E qui, cari ascoltatori, giungiamo al nocciolo della questione, la notizia che gli investigatori stanno analizzando con estrema attenzione. Il destino di Manuela era appeso alle decisioni di quella riunione, e lei ne era profondamente turbata. I saggi del Consiglio, intervistati come persone a conoscenza dei fatti, hanno però mantenuto il silenzio, riparandosi dietro il segreto ministeriale. La tensione è palpabile, mentre aspettiamo che emergano nuovi dettagli. Ogni minimo indizio potrebbe essere decisivo per sciogliere l'enigma di questo doloroso evento. Concludiamo il nostro approfondimento odierno, invitandovi a condividere i vostri pensieri su questa incredibile vicenda. Qual è la vostra opinione? Avete teorie o intuizioni su ciò che potrebbe essere successo? Lasciate un commento qui sotto, e partecipate alla discussione. A presto!